Andiamo ora alla concessionaria Suzuki Sivarcar, lasciamo la parola a Gianfranco Spagni, vediamo! Amici di Tutomotori, un bel ritrovati con il costretto appuntamento Suzuki e Sivarcar in Gemiglia. Sono di fianco la Suzuki S-Cross, la nostra interessantissima crossover disponibile con motori a benzina oppure turbodiesel. Il motore a benzina, vi ricordo, è un motore booster jet. Cosa significa? Motori a turbina a bassa pressione con un'iniezione diretta della benzina. Quindi consumi ridottissimi a fronte di prestazioni molto buone. La S-Cross è una vettura che potete averla sia in versione 1000 di cilindrata con potenze di 112 cavalli e un consumo medio di circa 20 chilometri con un litro oppure nella versione 1400, sempre booster jet turbo benzina, abbinata alla trazione integrale come appunto tradizione della Suzuki. Anche qui consumi che si avvicinano a 18 chilometri con un litro reali. Per quanto riguarda l'alternativa dei motori, poi potremo seguire anche il motore 1600 turbodiesel da 120 cavalli. E qui superiamo bene, comodamente, un consumo di 21-22 chilometri con un litro. Quindi macchine che si gestiscono molto bene, consumi molto economici a fronte, diciamo, di prestazioni eccezionali con tutte le versioni. Quindi due ruote motrici o 4x4 crossover Suzuki S-Cross con prezzi a partire grazie alle promozioni da 15.500 euro. Quindi un rapporto prezzo qualità veramente eccezionale. Per quanto riguarda poi le nostre promozioni, ovviamente si estendono a tutta la gamma Suzuki. Vi ricordo che di novità in questo periodo, oltre a S-Cross, potete trovare presso il nostro salone la nuova Suzuki Ignis. Quindi la piccola SUV, diciamo, anche qua due o quattro ruote motrici. Dotata anche di motori ibridi, quindi motori con un supporto elettrico che vi permettono consumi veramente bassissimi. Oppure la nuova Suzuki Swift. Anche qua sta arrivando la gamma sempre più completa. Attualmente disponiamo dei motori 1.2 trazione anteriore, sia normali che ibridi. In questi giorni, ma vedremo più avanti, arriveranno le versioni anche qua 4x4 oppure con i motori 1.000 turbo booster jet come S-Cross. Anche qui promozioni eccezionali, sconti veramente interessanti. Vi ricordo che per questo periodo ci troverete come Sivarcar anche presso la Festa Reggio. Quindi tutte le sere potete venirci a trovare per vedere la nostra gamma di prodotti e fare qualche chiacchiera con noi. Vi assicuro che troverete spunti interessanti. Da Gianfranco Spagni e da Sivarcar, un arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.